Sono Silvio Messana, il proprietario di Monte Secondo, un'azienda a Cerbaia Val di Pesa, nel comune di San Casciano. I miei ruoli in azienda, lo dico al plurale, sono molteplici perché mi occupo della cantina, sì che faccio il vino, però anche seguo la parte agronomica e il commerciale. Il vino per me è un ambasciatore, è un ambasciatore, noi siamo agricoltori prima di tutto e dobbiamo ricordarci che il vino è un alimento che noi portiamo sulle tavole tutti i giorni e attraverso il vino abbiamo quasi un dovere di portare un messaggio di etica di lavoro, di rispetto del suolo e dell'ambiente e anche con molta umiltà porci davanti a una natura che riesce a farci produrre un prodotto meraviglioso, che anticlassico che facciamo noi è un 90% sangiovese con un blend di canaiole colorino del 10%, 40% affinamento in legno e il resto in vasca di cemento.